Poeri Giovanni, Brizio Ediano, Cetti Paolo, Del Sole Nicolino, Trascarani Diego, Giordano Riccardo, Gramonto Fabrizio, Greco Mario, Landeri Alessandro, Landeri Marcos, Omenico Giazegno, Omena Roberto, Manetta Teodoro, Rossi Alberto, Salito Giovanni Battista, Salto Camerieri, Spinella Salvatore, Tornatore Diego, Bassano Fuglio, 4 presenti, 20 sono assenti, il primo appello non dà il numero regale, signor Presidente. Grazie, segretario. Il nuovo appello non ha dato il numero regale, quindi procederemo al secondo appello fra un ora a partire da me. Grazie.